Gruppo Dry Planet nasce nel 2008 a seguito della fusione di due brand storici, Liget e Microcar, leader del mercato europeo nella produzione di minicar. Nel 2009 si aggiunge il marchio Due, che porta Dry Planet ad essere il gruppo leader nel mondo delle minicar in Europa, con oltre il 40% delle quote di mercato. Il concetto di minicar nasce negli anni 80 per dare mobilità a tutti, proprio a tutti. In particolare in Italia, questi veicoli possono essere guidati a partire dall'età di 14 anni. Consumi minimi, motori ecologici, bassi costi di gestione, accesso alla zona traffico limitato, sono solo alcuni dei vantaggi offerti ai possessori di una minicar. Automobiliget, marchio storico nel settore fondato da Guiliget, capitalizza oltre 20 anni di esperienza sportiva in Formula 1, per sviluppare delle mini vetture innovative e costruite sfruttando tecniche di fabbricazione all'avanguardia, riconosciute oggi con il nuovo standard in questo segmento di mercato. Microcar, da 30 anni, è sinonimo di avanguardia assoluta nei progressi realizzati per la sicurezza. Ponendo questa mission al primo posto nel proprio percorso di innovazione, Microcar è l'unico costruttore ad aver adottato in serie le proprie tecnologie brevettate. Due, il marchio funzionale, l'ultima nata del gruppo, offre una gamba di mini vetture ecologiche, funzionali ed economiche, godendo delle sinergie industriali del gruppo e in grado di associare clamor, tendenza e sicurezza, dando vita a prodotti estremamente versatili e dinamici. Tecnologia e sicurezza, con questo binomio il gruppo DiPlanet ha concepito, progettato e realizzato i suoi modelli, sviluppando una rigorosa mission per poter offrire alla propria clientela un prodotto confortevole ed affidabile. I nostri veicoli si distinguono per innovazione, ricerca e soluzioni tecnologiche di ultima generazione, uniche nel segmento, per ottenere un prodotto che rompe con il passato, trasforma il presente in futuro ed abbandona l'immagine della mini vettura associata alla scarsa sicurezza e alla mancanza di tecnologia. DryPlanet, il gruppo leader nel mondo delle mini car in Europa, tre marchi autonomi, due siti di produzione indipendenti rigorosamente made in France, un pool di sinergie umane e industriali capace di apportare innovazione, tecnologia, bellezza e qualità in nome di una mission comune, una guida sicura e senza compromessi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS